Il quiz del bianco. Oggi ti metto alla prova. Giochiamo insieme ed impariamo tante cose nuove, non solo sulla lingua italiana, ma anche su questo colore, il bianco. Rispondi alle domande e non dimenticarti di farmi sapere in commento quante ne hai indovinate. Domanda numero uno. Una domanda di vocabolario. Cos'è un'arma bianca? Un'arma bianca è un'arma antica. È un'arma con forma a punta, silenziosa, usata nel corpo a corpo, B, oppure è un'arma che esplodendo emette una polvere bianca? A, B o C? Un'arma bianca è un'arma con una forma a punta, un'arma silenziosa, usata nel corpo a corpo. Si può trattare ad esempio di un coltello, uno stiletto, una sciabola, un fioretto. Domanda numero due. Andiamo nei modi di dire. Alzare bandiera bianca. Cosa significa? A. La bandiera bianca è una dichiarazione di battaglia. B. Significa dichiarare che ci sono dei feriti da curare. C. Significa arrendersi. Cosa significa bandiera bianca? Alzare bandiera bianca. Significa arrendersi. Modo di dire numero tre. Parliamo di un matrimonio in bianco. Un matrimonio bianco è un matrimonio in cui non c'è più intimità sessuale. B. È un matrimonio in cui entrambi gli sposi vestono in bianco. C. È un matrimonio in cui i coniugi non litigano mai. Che cos'è un matrimonio bianco? A, B o C? La soluzione giusta è A. È un matrimonio in cui non c'è più intimità sessuale. Modo di dire e domanda numero quattro. Essere una mosca bianca che cosa significa? Significa A. Essere estremamente fastidiosi. Oppure B. Vuole fare le cose in modo sempre diverso dagli altri. Oppure C. Essere una persona ad un oggetto particolari e rari. A, B o C. In italiano, essere una mosca bianca significa essere una persona ad un oggetto particolari e rari. Andiamo a parlare di psicologia. Cosa rappresenta il colore bianco? Purezza e fermezza? Pignoleria? Oppure mania per la pulizia? A. Purezza e fermezza? B. Pignoleria? C. O. C. Mania per la pulizia? Questa è veramente facile. Forse ci siete arrivati immediatamente che in psicologia il colore bianco rappresenta la purezza e la fermezza. Domanda numero 6. Andiamo in cucina. Cosa si intende per carni bianche? A. Carne alla griglia cucinata senza sughi. Quindi tutte le carni che vengono grigliate e cucinate senza sughi. B. Carne di agnello, tacchino, pollame e coniglio. oppure C. Carne di animali. Cosa intendiamo in cucina per carni bianche? A, B o C? Se ti piace mangiare e ti intendi di cucina dovresti sapere che le carni bianche comprendono tutte le carni da agnello, tacchino, pollame e coniglio. Domanda numero 7. Andiamo nei modi di dire. Cosa significa farsi venire i capelli bianchi? A. Tingersi i capelli di bianco o grigio o argento. B. Scegliere di non contingersi i capelli grigi. Quindi farseli venire bianchi. Oppure C. Avere molte preoccupazioni e dispiaceri. Cosa significa farsi venire i capelli bianchi? Farsi venire i capelli bianchi, beh, significa avere molte preoccupazioni e dispiaceri. Si usa di solito in frasi come mio figlio mi ha fatto venire i capelli bianchi. Eh sì, me ne combina sempre di tutti i colori. Ed ora domanda numero 8. Andiamo a parlare di turismo. Se vado a fare la settimana bianca. Dove vado? A. Al mare in una spiaggia con sabbia bianchissima. B. Vado al lago bianco in Valsesia. Oppure C. In montagna a fare sport invernali sulla neve. Allora, dove andiamo se vogliamo andare a fare la settimana bianca? Forza, sicuramente si dice così anche nella vostra lingua. La settimana bianca è una settimana trascorsa in montagna a fare sport invernali e sulla neve. Domanda numero 9. Modo di dire passare la notte in bianco. Che significa? Significa A. Dormire da soli senza partner. B. Non riuscire a dormire per tutta la notte. Oppure c. Dormire con biancheria intima di colore bianco. Allora, passare la notte in bianco. A. B. O. C. Spero che non vi sia mai capitato o che vi succeda raramente perché non è una bella sensazione ma passare la notte in bianco significa trascorrerla senza dormire quindi senza riuscire a dormire. passare tutta la notte svegli a cercare di addormentarsi. Domanda numero 10. Geografia. Quanto è alto il monte bianco? A. È alto 4805 metri. B. È alto 4786 metri. Oppure C. È alto 3805 metri. il monte bianco. Il monte bianco è alto. Vediamo se ci avete indovinato. È alto a 4805 metri sul livello del mare. La risposta A. Era quella giusta. Domanda numero 11. E torniamo ai modi di dire. Ce ne sono veramente tantissime. Luca è andato in bianco. Che cosa ha fatto Luca? Cosa significa andare in bianco? significa A. A. Vestirsi in bianco per un appuntamento galante quindi andare in bianco ad un appuntamento. Non saper rispondere ad un esame. Oppure C. Non riuscire in un approccio o in un rapporto sessuale. Quindi andare in bianco. La soluzione giusta è la C. Andare in bianco significa non riuscire in un approccio o in un rapporto sessuale. Ed ora la domanda numero 12. Continuiamo con i modi di dire. Mangiare in bianco significa A. Mangiare riso. B. Mangiare senza sugo. C. Mangiare vestiti di bianco. A. B o C. Mangiate mai in bianco? Beh, se mangiate in bianco qualche volta allora sapete benissimo che mangiare in bianco significa mangiare senza sugo. Pasta asciutta quindi senza sugo oppure anche riso. Senza sugo. Domanda numero 13. Restiamo nei modi di dire. Consegnare un compito in bianco significa A. Svolgere tutti gli esercizi di un compito. B. Fare un compito senza errori. Oppure C. Non rispondere a nessuna domanda. A. B. O C. La risposta è la C. Consegnare un compito in bianco significa non rispondere a nessuna domanda. Domanda numero 14. La penultima domanda. Andiamo a una domanda di cultura. Quale abito è tradizionalmente bianco? A. Quello delle debuttanti. B. Quello della vedova. Oppure C. Quello della sposa. Forza! Non ditemi che non la sapete. La risposta è chiaramente l'abito della sposa. È tradizionalmente bianco. Almeno in Italia. Ultima domanda. Una domanda di medicina. La domanda numero 15. Al pronto soccorso il codice di accesso bianco. Cosa significa? A. Nessuna urgenza. Tempo di attesa indefinito, se non infinito. B. Urgenza differibile. Nessun pericolo di vita. Oppure C. Urgenza minore nei bambini. Allora A. B o C? La risposta è la A. Nessuna urgenza. Tempo di attesa indefinito e purtroppo molto spesso anche infinito. I codici di accesso del pronto soccorso sono rosso, emergenza. Arancione, urgenza. Azzurro, urgenza differibile. Verde, urgenza minore. Bianco, non urgenza. E ora fatemi sapere quante risposte giuste avete dato. Da 0 a 5 non vi scoraggiate. La prossima volta andrà sicuramente meglio. Da 5 a 10 bravi, ben fatto. E da 10 a 15 non posso che battere le mani e dirvi bravissimi. Siete dei veri campioni. E bravissimi lo siete tutti quanti, in particolare se vi iscrivete al canale e restate con noi per tutti i nostri prossimi quiz, test e lezioni per imparare l'italiano divertendosi insieme con Oliukenitali. Ciao! Grazie a tutti!